La qualità e bellezza delle pitture di Andrea Mantegna nella Camera degli Sposi è risaputa. Celebri sono infatti gli affreschi realizzati tra il 1465 e il 1474 dall'artista presso le stanze private del Palazzo Ducale di Mantova, precisamente nel piano nobile del Torrione Nord-Est nel castello di San Giorgio. Meno risaputa è invece la strana somiglianza tra il ritratto che Mantegna ci ha lasciato del committente, il marchese Ludovico Gonzaga, e quella del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Chissà come se la passava la corte mantovana all'epoca.